Giovanni Oriani, presidente dell'Associazione Feder Mediterranea, che mercoledì prossimo, 21 dicembre, organizza una cena in favore di chi e soprattutto perché? Sì, questa è una cena che il suo nome è per tutti i Natale. Un'idea che ho avuto tre anni fa è che proprio il nome vuol dire tutto, in senso è per tutti i Natali, cioè anche per persone con disagio. In questo momento di tradizione e di bellezza, diciamo, di stare tutti quanti più in armonia e essere felici. Allora abbiamo organizzato con il DSM Nas Napoli 2 Nord, con il direttore Perrino, in questo è il terzo anno, una cena spettacolo natalizia per 300 persone. Sono state scelte, diciamo, metà dal DSM e metà io ho dato a personaggi come il Vescovo di Pozzolo e il Cardinale Sepe, che con le loro, diciamo, diocesi sceglieranno queste persone che hanno più bisogno. Quindi un atto di solidarietà, tutto sommato? Sì, un atto di solidarietà che da tre anni porta avanti questo progetto e sinceramente, diciamo, siamo in un bel successo perché ci metto entusiasmo, diciamo, energia e sono anche contento perché viene anche questa volta il Vescovo di Pozzoli, Monsignor Gennaro Pascarella. E c'è anche, soprattutto, il patrocinio del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Abbiamo avuto come terzo anno il premio, si chiama Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica, una medaglia proprio perché, diciamo, per i successi di questi anni e poi che continuiamo ancora su questa strada e con molta tenacia.